Action for 5G Action for 5G è un bando che Vodafone ha lanciato alla fine dello scorso anno 2017 per promuovere e supportare innovazione attorno al 5G da parte di start-up e piccole e medie imprese. Il bando si propone di raccogliere progetti innovativi da parte di start-up e piccole e medie imprese che abbiano nel 5G una componente essenziale, determinante, assolutamente distintiva del loro progetto. Il proposito di questo bando è di creare non solo innovazione ma anche di testare e verificare in campo nei nostri laboratori insieme a start-up e piccole e medie imprese nuovi modelli di business e davvero un nuovo ecosistema che il 5G abiliterà nel futuro. Il bando Action for 5G è aperto, la scadenza è il 31 di marzo, le candidature possono essere sottoposte tramite apposito modulo online sul sito www.actionfor5g.it Aspetto la vostra candidatura. Grazie. 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 Grazie.